Perché? Perché? Perché c'è questa difficoltà a credere in noi stessi? Perché c'è questa difficoltà a trovare una consapevolezza nei nostri mezzi? Per quale motivo? Siamo un cagnolino impaurito, ho questa sensazione, abbiamo bisogno che arrivi uno che ci prende, che ci scuota, che ci scuota. E' un dispiacere, è un dispiacere ragazzi perché stasera, annetto del fatto che la qualità del PSG è indiscutibile e che al momento, al momento specialmente per quelli che erano gli effettivi a disposizione di Max Allegri, non c'è paragone per qualità, per livello tecnico, per tasso tecnico, non c'è paragone tra Paris Saint Germain e Juventus, siamo d'accordo su questo. Però il Paris Saint Germain non ha difeso bene ragazzi, non ha difeso bene e nel momento in cui ha calato un po' il ritmo nel secondo tempo, la Juve ha avuto due o tre occasioni ragazzi che non dico che magari sono al pari di quelle che hanno avuto Bappé nei mar, ma insomma poco ci manca, poco ci manca. E quindi dobbiamo uscire rammaricati, dobbiamo uscire rammaricati da questa partita e da questo risultato. Andiamo a scaricare il numero 10, fondamentale, fondamentale per rimanere aggiornati su tutte le notizie del calcio, domenica ci aspetta una partita fondamentale per il nostro cammino in campionato, trovate il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo sempre che l'applicazione organizza dei contest meravigliosi in cui alcuni fortunati che avranno sorteggiati potranno vincere la maglietta originale della Juventus. Quindi mi raccomando ragazzi scaricare questa nuova applicazione che consiglio vivissimamente. Non vorrei che la reazione rabbiosa di orgoglio, anche di calcio, anche tecnica, che c'è stata nel secondo tempo, sia una giustificazione per la squadra che la porti a pensare domani mattina quando la squadra si ritroverà a fare allenamento, che la porti a pensare che la Juventus è vicina al Paris Saint Germain, perché il Paris Saint Germain, come dire, ha fatto quella partita dove non è che a livello di concentrazione fosse proprio a livelli massimi, no? Cioè ha cominciato un po' a scherzare, in certi momenti secondo me anche in modo poco rispettoso verso la squadra avversaria, e infatti era anche giusto punirli calcisticamente parlando per questo motivo qua, ma non ci siamo riusciti. Ma dicevo appunto, nel secondo tempo, quando il Paris Saint Germain ha abbassato il ritmo, tu li dovevi azzannare la partita, tu li dovevi andare a fare il secondo gol, perché gli spazi c'erano, perché non ti stavano dietro, ma non tanto perché tu stavi andando così forte a livello atletico, semplicemente perché ti stavi muovendo bene in campo, finalmente riuscivano a trovare gli spazi giusti. Un Paredes, ragazzi, che quest'oggi, questa sera è salito in cattedra, un Paredes che questa sera è salito in cattedra, ha cominciato a far girare il pallone in modo piuttosto veloce, in modo piuttosto rapido, con le sue verticalizzazioni brave, le mezze ali, brave le mezze ali, a farsi trovare pronte nel momento giusto, e quando riuscivamo ad arrivare con due tre passaggi sugli esterni, da una parte quadrada, dall'altra Kostic, ecco che allora lì cominciavamo a creare dei pensieri, delle grane, no? Alla squadra parigina. Abbiamo cominciato male la partita, l'abbiamo cominciata malissimo, il primo gol di Mbappé, anche il secondo se vogliamo, i due gol di Mbappé sono due capolavori tecnici, cioè, vuoi per l'azione, vuoi per l'assist di Neymar, vuoi per il fatto che Mbappé ha una velocità tecnica che non ti dà nemmeno il tempo di pensare difensivamente cosa fare, perché tu fai in tempo a girare lo sguardo che lui ha già calciato, che la palla è già in porta, quindi quella è una cosa non marcabile. È chiaro che tu potevi metterti meglio in entrambe le situazioni, nella prima Bremer ha dormito sul suo inserimento, Bonucci ha dormito sulla diagonale, sul secondo gol Danilo è rimasto troppo fermo nel coprire anche lui la diagonale, non eravamo posizionati bene in campo, però comunque i primi due gol ci sta anche dire bravi loro, cioè bravo Mbappé, è sul resto, è sul resto che io mi chiedo, ma tu perché nel secondo tempo che hai visto che stavi mettendo così tanto in difficoltà loro nel momento in cui hai cominciato ad essere aggressivo in avanti, nel momento in cui hai fatto veramente quel quarto d'ora in avanti, anche i loro terzini hanno cominciato a sbagliare gli stop, in un paio di occasioni siamo riusciti a recuperare il pallone alto, siamo andati al tiro diverse volte, abbiamo trovato il gol con McKennie, abbiamo cominciato a schiacciarli un po' sul loro metà campo, stavamo conquistando il terreno di gioco. E allora perché c'è sempre poi questo pian piano, questo progressivo rallentamento, c'è questo progressivo abbassamento del baricentro, c'è questo progressivo abbassamento proprio anche del livello, come dire, agonistico di fame, di aggressione, questo è un peccato. Io non capisco, veramente non capisco, perché a me ne parlo talmente tanto tempo che non sono riuscito a darmi una risposta, non capisco se sia una questione atletica, se sia una questione di paura, se sia una questione di poco coraggio, se sia dettato dal fatto che magari in difesa ci sono dei giocatori poco sicuri, poco convinti, che magari preferiscono fare un passo indietro piuttosto che in avanti, non capisco se sia l'allenatore che dà l'ordine di andare indietro, ma questo non mi sembra. Ed è un peccato, perché riprendendo il filo iniziale del discorso di questo video, cioè se tu trovi la chiave per mettere in difficoltà anche il Paris Saint Germain, cioè cazzo tu devi continuare ad usare quella chiave lì, tu devi continuare ad usare quella chiave lì fino a quando veramente sei sfinito, cioè fino a quando veramente non ne hai più, fino a quando le gambe non ti reggono, fino a quando non trovi il pareggio se non addirittura il vantaggio, allora lì magari ti puoi prendere quei 5-10 minuti di gestione dove fai un passo indietro con tutta la squadra, ma nel momento in cui vedi la preda che è debole, che è vulnerabile, hai detto lì devi essere veramente glaciale, lì devi essere di ghiaccio, lì devi prendere la preda, devi cacciarla, deve essere tua, devi farla tua. Ed è un peccato, perché io lo continuo a dire, lo dirò sempre all'infinito, che questo è molto probabilmente un problema principalmente di personalità, di coraggio, cioè ci vuole una spinta da dietro da tutti che dica andiamo, andiamocela a giocare come se non avessimo nulla da perdere, siamo la Juventus, ma non perché indossiamo la maglietta bianconiera, allora abbiamo il diritto e il dovere di vincere sempre, ma perché i giocatori ci sono per farlo, ci deve essere una mentalità diversa, ci deve essere una mentalità diversa, la mentalità che attraverso una fase offensiva che sia buona, attraverso una fase difensiva che sia buona, però una mentalità che ti faccia dire a un certo punto dobbiamo prendere in mano la partita e vincerla, e ribaltarla, che è un po' il discorso che facevo contro le Ferentina nel post-gara. Analisi, analisi di un certo tipo, l'ha detto anche Allegri, perché ho fatto in tempo a sentirlo, ed effettivamente ha ragione, nel momento in cui tu fai un brutto primo tempo e un buon secondo tempo, esci quasi, no, come dire, con il giudizio che la Juve ha fatto quasi una buona partita, fai un buon primo tempo e un brutto secondo tempo come a Firenze, e la Juventus ha fatto una pessima prestazione. Non sono poi così diverse le prestazioni di Firenze di stasera, cioè comunque abbiamo giocato un tempo, e se guardiamo anche la partita con la Roma abbiamo giocato 60 minuti, quindi un tempo e mezzo, se vogliamo essere una grande squadra questo non può esistere, se non possiamo concedere sempre delle porzioni di tempo, delle porzioni di gioco alla squadra avversaria, cioè questo non deve più esistere, dobbiamo cessare di essere questa squadra qua che si prende delle pause, delle vacanze nel corso della partita. Dobbiamo essere una squadra che per 90 minuti sicuramente si può prendere delle pause a livello di ritmo, perché non puoi correre ai 100 all'ora per 95 minuti, ma che comunque tiene sempre in mano il pallino del gioco, che tiene sempre in mano il controllo della gara, ma nel momento in cui deve far gol, va a far gol nel momento in cui deve difendere, va a difendere nel momento in cui deve attaccare alto, va ad attaccare alto, ma sempre con la padronanza della partita, questo deve essere lo step, questa deve essere la direzione. Qual è ragazzi la nota più positiva di questa sera? e credetemi non è poco, è la capacità della squadra di rimanere attaccati alla gara, perché andare dopo 25 minuti, anzi forse meno, 22 non mi ricordo, in svantaggio per due reti, con tutte le premesse della partita, con tutto il popolo juventino che era scettico, che si parlava di goleada del Paris Saint Germain, di figuraccia della Juve, in quel momento lì c'era il rischio figuraccia, c'era il rischio goleada, tu sei rimasto attaccato alla partita, e a momenti gli episodi ti premiano, esattamente come è successo lo scorso anno a favore del Real Madrid, questa secondo me è una dote della grande squadra, questa secondo me è la dote delle grandi squadre che sanno aspettare il momento giusto, che sanno magari riconoscere anche la superiorità della squadra avversaria, ma non per questo si alza bandiera bianca, anzi, si sta sul campo, si continua a combattere, si sta uniti, si sta uniti in quanto squadra e quando ti puoi giocare le tue armi te le vai a giocare con il massimo della convinzione. Questo è il motivo per cui vi dicevo che quel secondo tempo orrido di Firenze, nella sua bruttezza, nella sua pochezza, nella sua carenza tecnica e tattica, ha fatto vedere però un grande pregio di questa squadra, cioè l'essere squadra nel momento di difficoltà.